Qui c'è un gattile più grande di quello di Malamoco perché qua per l'apposizione, allora per andagismo si intende che gli animali camminano liberi, ecco di là non possono più andare perché c'è il canale dei petroni, quindi approfittano di tutta questa situazione qua e si nascondono da tutte le parti, sono spaventati. Siamo a Punta Fusina e denuncia un cittadino, qui da anni all'imbrunire arrivano decine di gatti, nessuno fa nulla per la loro salvaguardia. Qui solo, tutta Marghera, tutta Marghera, qua Fusina dappertutto, se purtroppo se non si interviene il prossimo anno sarà la doppiata. Qui saranno più di 50 e compreso una ventina di cuccioli perché poi gli abbandoni, quello è il punto, abbandonano anche le gatte incinta. Poveri besse cosa fanno? Cuccioli. Mangiare io non glielo farò mancare mai, la sera arrivo con un bel secchione e riempio le ciotole, ma la sera qua è tutt'uno perché loro hanno ormai l'orario della sera, l'orario di cena è la sera, adesso col sole eccetera, sono nascosti anche nel campeggio oppure là in fondo c'è solo un macchia alberaccio eccetera. Io ho visto qui delle situazioni, ho messo come mettevo il mangiare, un gattino si butta come se fosse la prima volta che mangiasse, quando si vedono certe scene, quando si vede un animale anche ferito, no io non mi tiro indietro, perciò faccio tutto quello che posso, li aiuto finché posso. Il signor De Francesco e non solo porta cibo per i gatti a spese sue, ma si sfoga, non spetterebbe a me. Bisognerebbe che intanto il presidente della municipalità di Margera mi dasse un po' ascolto, che quando io chiamo non mi dice mi mando una mail e della mail non se ne fa niente, io vorrei risposte, risposte fattive da questi signori, sono lì apposta. Abbiamo parlato con la Silvana Tosi, consigliera, mi ha detto ovviamente sappiamo tutti che è stata approvata una zepelina, però devono farla al più presto perché c'è un'emergenza, non sappiamo dove mettere tutti i gatti, recuperiamo predigenze, sterilizzazioni, tutto, deve intervenire l'ASL, più siamo senza cibo, senza mangiare, per quello che può fare la dingo, fa, però purtroppo c'è un'emergenza, bisogna che il comune ci diano la mano. L'appello, oltre alla politica, va anche ai cittadini. I telespettatori sono quelli che potrebbero fare qualcosa, persone sensibili che ci diano una mano.